Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Lego Batman 3, l'ho trovato finalmente Oh, l'ho trovato, era proprio quello più semplice, quello del gigantesco, invece andavo sui raggi e via Dice, se lo vuoi, rompe l'anima, allora, vediamo un po' se il costume artico, ci divertiamo un po' con il costume artico Dai, forza Ok, dobbiamo fare, ok, forza, due Perfetto, questi sono tutti i personaggi Lego Guarda, guarda questo qua dietro che ci sta menando Possino caricate, vattene a quel paese, te e l'amichetto tu Vai via Eh, manca l'ultimo personaggio Vai Forza, forza, forza E tiri su, benissimo Basta Le ero gotte Allora, vediamo un po' Ancora, ancora che arrivano gli altri Cacchiole Su Allora, il Joker ciò lo mette, quello l'elettrico Che dovrebbe tanto farlo pure lui, questo Forza, tira, 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 tira Tira, bene Voilà Nuovo potere, yeah E nuovo costume, soltanto Il mio costume del controllo mentale con il fiore L'hai tenuto come ricordo? Che dolce In realtà sarebbe una prova Funziona solo sulle menti non concentrate Ma l'hai imparato a tua spese Bene, grande Ok, procedete Oh, cacchio Braniac sta laggiù I rampiti Dobbiamo puntarli verso l'astronave di Braniac E allora che stiamo aspettando? Che bello Con Killer Croc Porco, cani Killer Croc Quanto è devastante Bello Mamma Forza Spacca tutto Ma che possiamo fare? Aspetta Non costruisci Killer Croc? No, Killer Croc non costruisce Oh, guarda questa come l'ha ucciso Grande Vai, fatemi vedere Voilà Un bel dispositivo Lassù C'è qualcosa da fare Che è che c'è sta a menare, gà? Dai, dai Dai, dai 3 stella A posto Che serve? Ci serve Ok Vai Vai Carica, carica Carica le pile Che devi andare lassù Carica le pile Che devi andare lassù Bene Sali, sali, sali Eccoci qua Sì Oh, quanti Quanti ci stanno aspettando? Salve, salve Salve, salve 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 Oh, oh Tacchio Ha finito il racchio Ok Me lo sarà incantato A posto Allora, vediamo un po' Se questo intanto lo possiamo spaccare Benissimo Che è servito? Quello, ah Per far il gancio Grande Penso Robby ne lo può fare Killer Croc sta a pensare come fa Ad agganciarsi Ok Su Dai Agganciate Perfetto Vai, vai, vai Stacca sto cacchio di coso Su Su Vai Benissimo Ah Perché ci serve la carica elettrica? Dobbiamo andarci Allora Intanto vediamo qua Questo non ci serve Vediamo se ci serve Ah Non ci serve nessuno di questi Mi sembra strano però Che ci serve qua? Oh eh Che cacchia Mi pareva strano che non lo potevo zionare Era lui, era Che cacchia sta facendo giocare Allora Verde Celeste Verde e giallo-rosso Celeste Verde Cacchio vai Giallo-rosso Rosso Troppo facile Il tuo sistema di protezione è una farsa ragazzo meraviglia Ecco perché fa tanta fatica a convincere la gente a votare per lui Andiamo Robin Intanto qua sotto penso che ci devi andare sempre dentro Cacchio vai Cacchio vai Ritorna su Ok andiamo Su gancio presumo sempre te lo devi azionare Tira Tira Passare Non serve a niente Qui sopra Qui sopra non sto a vedere Che possiamo fare Che sopra cos'è No è morto Stavo vedendo Che cacchio fai Killer croc Qua non si può agganciare nulla Vero Spacca tutto Niente Andiamo a vedere dall'altra parte Oh aspetta Qua si può fare qualcosa Cosa serve questo pulsantino qui E vedi che ci stanno ancora cose da fare Dai E uno E due Ammazzate comunque Robin Non mi sembra che ci aveva solo due Questelline Ma invece c'era Quattro Ci ha capito Misteri Andiamo Andiamo Questo non si può rompe Che cacchio dovremmo fare qui sopra Andiamo qua Questo non si può rompe Questo E' finito così Si può azionare Vabbè Oh andiamo a vedere dall'altra parte Aspetta che prendo No no Killer croc E almeno spacco prima E' più facile Aspetta Vediamo se killer croc Può rompere qua Se non fa qualcosa Ah no Gli dobbiamo dare input Da quest'altra parte Quindi qua dobbiamo fare Qualche cosa Allora Manca una parte decorrente Ok Vai Avevo visto qua Che potevo andare A prendere questi Infatti Tira Ok E adesso Ci serve Il compare Aspetta Andiamo a vedere Se Robby ne può costruire qua Che si è sembrito Sto coso Che dite Sta a funzionare Non ho capito Se funziona Oppure no Aspetta che Devo ritornare Adesso vediamo la scala Ok Qua è arrivata la corrente Ci manca Qualche cosa Che gli dia l'input Allora Qua non vedo nulla O qua Manca qualcosa Qua sotto Vedi Però sembra Tipo che ci sia Una scala Qua Infatti Che cos'è qua Che cacchio è Questa cosa Aspetta Men potenti L'erco che si attacca Le scale No Ah eccolo E non lo rompeva Eccola che serviva Il vestito luminoso Vedi Tutto in giro Era un giro assurdo Però io Il costume luminoso Di Robby L'avevo già Già ricaricato Non so se adesso Scarico Vediamo un po' Il costume luminoso Ok Ho detto io Che era fatta No ma l'avevo caricato Prima Yeah Vai Vai Uno Due Tre Che tipo Possiamo salire Nella piattaforma centrale Eccolo qua I rampini sono pronti Dobbiamo solo portare L'astronave di Brainiac Chiudiamo questa faccella Non sopporto questa roba Da buoni C'hai tutti i torti Grande Oh Dai però Ok Andiamo sopra E attacchiamo questi rampini Si sale Andiamo Eccoci qua Just attaccano Regà Oh la grande lotta Livello completato Benissimo Ok Agganciata l'astronave Di Brainiac Adesso sarà Di andarla Ad attaccare Secondo me Adesso ce lo vediamo Sì Perché so carica a pallettoni Andiamo Ho esteso il tunnel da traco Lo terrò fermo al suo posto Fin quando non sarai a porta Oh quanti personaggi adesso Un mare Torre di guardia Mamma mia Con tutti questi Regà Va bene Allora Spero che il video S'assai passato a gradimento Se vi è piaciuto Iscrivetevi sul mio canale E mettete un bel mi piace Al mio video E ci vediamo con Tanti nuovi video Sempre qui Sempre sul mio canale E ci vediamo con